La libertà si conquista, scioprofeminista, scioprofeminista La libertà si conquista, 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 scioprofeminista Il lavoro delle donne è molto spesso poco considerato rispetto a quello degli uomini Nel settore delle pulizie, della vendita, delle cure La mancanza di rispetto per il nostro lavoro è il momento corrente. I bassi salari pagati alle donne sono le origini del migliormente insufficiente per la cittadina. Lotta dura senza paura! Lotta dura senza paura! Ci hanno detto che non avevamo diritto a sopperare, che dovevamo essere concilianti e discutere, ancora discutere. Siamo stanchi di discutere, siamo stanchi di conciliare con chi nemmeno ci considera. Ci volevano ancora buone e zitte, ci volevano ancora invisibili, ma oggi stiamo dimostrando a tutta la Svizzera, a tutto il mondo, che noi ci siamo. Unite siamo forti! Unite si vince! Unite si vince! Unite si vince!